Mentre la provincia di Avellino presenta le attività ludiche del periodo estivo per i bimbi autistici o con sindrome di Down, è ancora tutto fermo per l'apertura del centro autismo di Rione Valle. Elisa Spagnuolo dell'AIPA denuncia. È da novembre che non abbiamo notizie. Il covid ci ha messo del suo, ma stiamo ancora aspettando che la struttura torni alla sua iniziale destinazione. Non c'è un filo d'erba e pensare che lì doveva esserci una fattoria sociale. E poi temiamo che l'autismo diventi marginale in un luogo che ospiterà neuropsichiatria e che l'ASL vorrebbe rendere la nuova casa del centro Australia. Abbiamo sollecitato il comune, abbiamo avuto promesse di attenzione dalla quarta commissione e dalla settima commissione che avrebbero provveduto a togliere l'asfalto perché una farm community così come era stata progettata non può essere asfaltata, è assurdo e ridicolo, che avrebbero provveduto a ripristinare la parte in cui si fa il convitto e non abbiamo saputo assolutamente più niente. Certo è che l'ASFALTO sta là e certo è che io non ho visto modifiche alla parte che avevano cambiato per farla diventare ambulatori. A noi gli ambulatori non servono. A noi serve una struttura che dia possibilità di qualità di vita ai ragazzi e alle persone con autismo. Qualità di vita che ha tutt'oggi dopo 20 anni di combattimento non c'è.